Con 52.903.403 tonnellate di merci movimentate, il volume complessivo dei traffici nel porto di Trieste cresce del 3,48% nei primi 10 mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017. Il settore container arriva a 601.032 TU e segna un più 17%. Le merci varie registrano un più 8,47%, mentre le rinfuse solide si attestano a 1.467.265 tonnellate, in rialzo sul 2017. Stabili le rinfuse liquide e il comparto Rorò, con 254.470 unità transitate. Questi sono i dati diffusi oggi dall'autorità di sistema portuale del mare adriatico orientale. Lo scalo cresce anche nel comparto ferroviario, raggiungendo tra gennaio e ottobre 8.109 treni, più 13,46%. Considerando la movimentazione ferroviaria del punto Franco Nuovo, si riscontra una variazione del più 20,43% e 6.361 treni. Tale performance è trainata dai risultati di Trieste Marine Terminal e dal gruppo Summer. A ottobre si segnale il record storico di movimentazione su base mensile, con 914 treni, più 11,20% sullo stesso mese del 2017. I dati complessivi, osserva il presidente dell'autorità, Zeno D'Agostino, restituiscono la fotografia di un porto solido, dinamico, capace di investire sulla multisettorialità e che continuerà a svilupparsi anche nel 2019. Per esempio, l'anno venturo prevediamo un aumento ulteriore del 10% quanto ai treni movimentati nel nostro porto. Per pianificare e gestire la crescita del comparto treni, è stata di recente istituita una nuova direzione ferroviaria all'interno dell'autority, costituita da 17 dipendenti con competenze specifiche ferroviarie e di sicurezza.